Don Luciano, Don Luciano, mi devo confessare, è urgente! Ma ti sei confessata stamattina? E per tre volte? Appunto! Usa un profumo di donna! Fai, nonna, con chi va a tuoi porti? Ce l'hai presente? Quello dell'agenzia immobiliare? Adesso basta! Mi volete biscottare? Ma che dici? Puoi cottare, credo! Nonna, dove vai? Ma dove vuoi che vada? Vado a confessarmi, no? Su, su, dai il che goffressa! Con calma! Con calma! Lui che decide po' tutto, eh! Ma cosa c'è? Una perdita? Sì, una perdita di pazienza! Io vado, eh! Pace bene! Madonna Calaria, sempre Andrea senti! Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo! Diciamo le preghiere, prima che che la lasagna checa e la fasamo schife, la dente avanti si è schifosa! Ma che c***o! Sfitta me ne frega me, Caterina! Sei la puttana del paese! Martina, le parolacce! Tanto qui che ci sta andando di mezzo, sono io, porca troia! Le parolacce! Ma ti pensa? Rischi di vedere qualche scena disgustosa? Ma ti retrouva! No!